TAV, l'alta velocità e il futuro, ma il presente sono i cantieri. Con Fimi, la Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata lancia un allarme. A breve termine sicuramente ci saranno delle complicazioni estremamente importanti perché il passaggio in città è assolutamente invasivo. Sicuramente nel medio e lungo termine trasformerà la città, però nel breve termine avremo delle problematiche importanti. I cantieri rallenteranno il traffico sulle strade dove dovrebbe correre l'economia vicentina. In particolare a Vicenza i quartieri che rischiano di restare bloccati sono quelli ad ovest. Pensate che il cavalcavia che dalla Fiera va verso Villaggio Il Sole per circa 24 mesi verrà chiuso. Gli imprenditori però sanno bene che ogni problema ha una soluzione. Basta prevederlo e affrontarlo per tempo. Infatti Confimi lancia una proposta per sciogliere i nodi del traffico provocati dai cantieri della TAV, in particolare negli orari più caldi. Io ho proposto a regia di Camera di Commercio questa soluzione. Verifichiamo da Montecchio, Altavilla, tutta la zona industriale di Vicenza, l'orario di uscita di tutte le nostre attività. Per verificare, oggi RFI ci ha detto, la massima concentrazione del traffico è tra le 17 e le 18. Verifichiamo le uscite delle nostre imprese dalle 16, 16 e 30, 17, 17 e 30, 18. Se fosse possibile organizzare questo sicuramente andremo a migliorare l'attività di tutte le nostre imprese, di tutti i nostri collaboratori e del traffico cittadino. Insomma, le aziende potrebbero mettersi d'accordo per scaglionare le uscite dei propri lavoratori e non saturare le strade interessate dai cantieri della TAV. Una proposta che adesso verrà verificata. Ci saranno sei mesi di tempo per verificare questo. Credo che possiamo essere in linea, sia come associazioni, sia come ente camerale.